Un po' molto pazzo, io so, ma se le persone intorno a me dicono che io sono una persona con un buon cuore, che fa sempre il meglio per tutte le persone, per me è importante, per i miei giocatori, i miei staff, il club, ma io so che le mie metodi sono un po' differenti. Così si descrive Follì e Cuore, campione del mondo con la Polonia, l'istrionico coach di Perugia dopo le due Supercoppe vuole continuare a collezionare trofei. Sì, il belga Vitalainen è venuto in Italia per vincere. Ma è chiaro, non mi piace perdere, io non parto dalla mia famiglia in Belgio per essere qui, e per perdere io sono qui per vincere, ma si funziona. Lo sport è per il lanatore non facile, perdere due partite è possibile che il lanatore non sia lì. Io so, è la nostra vita. E cos'è il senso di squadra per Vitalainen? Giocare insieme come una squadra, cercare il nostro livello, e dopo, dopo per gli altri di fare qualcosa, e non è così importante sia Civitanova, Modena, Trento, Piacenza. Il sport è lo stesso, prima è te, fare il tuo livello, fare il livello della squadra e giocare insieme, per me è più importante, e dopo l'avversario è solo il secondo elemento. Considerazione finale? Yeah, un po' pazzo per voi, per me sono diversi, ma un buon cuore mi piace, essere onesto con tutti i persone, fare una buona relazione con i miei giocatori, mi piace molto.